La seconda fase di vaccinazione anti-Covid di AstraZeneca Priorità per questa prima tornata di vaccinazione al personale scolastico di ogni ordine e grado e alle forze dell'ordine Stop alla realizzazione della terza corsia della 11 La società autostradale revoca il bando per i lavori Il presidente della regione Gianni, infrastruttura fondamentale, mi chiarirò con il presidente Tommasi È partita in Toscana, giovedì 11 febbraio, la seconda fase della vaccinazione anti-Covid di AstraZeneca Rivolta alle categorie a rischio under 55 Il vaccino in questa prima tornata è indirizzato al personale scolastico e universitario di ogni ordine e grado E alle forze armate di polizia Ma tutto questo rischia di stravolgere i piani per le fasce più deboli? Anche di questo hanno parlato i consiglieri nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea Toscana Queste le loro posizioni Come sapete ho impostato un piano vaccinale molto stringente Che pone la Toscana fra le regioni che in modo più efficiente ed attivo si stanno adoperando per la somministrazione di vaccini Proprio oggi, io sto andando a Prato, arriverà quello che sono le prime 15.000 dosi di vaccino AstraZeneca E il vaccino AstraZeneca sarà quello che immediatamente, appena io vedo le dosi Noi metteremo in prenotazione Naturalmente le categorie che ci vengono indicate da Roma Sono quelle degli insegnanti sotto i 55 anni Delle forze dell'ordine, dei servizi pubblici Comunque, gli insegnanti non lasciano adito a nessun tipo di interpretazione diversa Quindi sono quelli che raccoglieremo subito insieme alle forze dell'ordine per quanto riguarda la campagna di vaccinazione In questo momento quindi la Toscana sta sviluppando tre linee di vaccinazioni Con Pfizer e Moderna la vaccinazione è in corso per quanto riguarda il personale sanitario e gli anziani dell'RSA E siamo arrivati a circa 160.000 dosi somministrate La seconda linea sarà quella che attraverso i medici di famiglia ci vedrà da sabato, San Valentino Somministrare attraverso gli ambulatori e la decisiva collaborazione con i medici di famiglia dei farmacisti Quelle che sono ulteriori dosi di vaccini Pfizer e Moderna E la terza linea di vaccinazione è quella che arrivando oggi i vaccini da giovedì sera potremo attivare per gli insegnanti e le altre categorie previste Io spero che possiamo arrivare presto ad avere dosi di vaccino che siano pari alla nostra capacità di somministrare Alla macchina organizzativa perché io ho bisogno di sentire che arrivino dosi sufficienti a creare progressivamente una immunità di greggio Che possa metterci a riparo e costituire la barrera per quella che è la pandemia Naturalmente l'organizzazione nostra c'è e dimostra i suoi risultati Tutto sta nell'avere le dosi di vaccino Mi pare l'unica scelta che è quella che sta facendo la Giunta è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultrottantenni Per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile Pfizer e Moderna alla popolazione anziana Questo ovviamente è chiaro ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultrottantenni Però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce E poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità E sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare Quindi intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici E su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato Perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine Non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni E speriamo che anche questo sia colmato nelle prossime settimane È un'opportunità, non sono mai problemi Quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità Lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni E ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno Lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati Soprattutto per le categorie che sono più esposte A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti Per esempio una di quelle categorie che prima di altre verrà vaccinata E come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine Tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che del socio sanitario E tante altre persone che beneficeranno dei vaccini Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa E prima di un anno sono arrivati i vaccini È un evento straordinario Quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo È un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza Quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione Augurandosi ovviamente che possa essere fatta in maniera più celere possibile Dobbiamo ancora da finire la prima Noi i dentisti per entrare nello specifico mio Da oggi iniziano a poter prenotare Per cui io stesso sarò la prossima settimana Anzi la settimana ancora dopo Quindi credo che non ce la faremo La tempistica secondo me è del tutto falsata Perché fino a che non ci saranno i medici di famiglia Che potranno incominciare a vaccinare Credo che i tempi saranno ridotti E i numeri saranno quelli che sono Cioè minimi Non solo Ma c'è anche un certo pressappochismo Nella idea di come procedere nella vaccinazione Perché i medici di famiglia mi hanno appena detto Non più tardi di ieri Che non sanno come procedere E addirittura sembrerebbe che i vaccini A loro destinati per la vaccinazione degli over gli 80 Siano della Pfizer Quindi i più difficili da maneggiare Poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80 Credo che quindi i tempi si allungheranno È ottimistico pensare a una seconda fase di inizio della prossima settimana Credo che l'importante sia ancora mantenere un assoluto distanziamento Il gel, la mascherina E sperare che si possa quanto prima O temperare a quanto tutti auspichiamo Naturalmente tutto finalizzato all'immunità di gregge Insisto che questo piano vaccinale Così come è stato declinato dalla regione toscana Ha molta confusione in sé Ci sono stati dei problemi In diverse province E non soltanto legati alla fornitura della Pfizer Che è stata rallentata Pure anche lì poteva essere trovato un sistema Un rimedio E producendoli in proprio Grazie all'articolo 31 Come la mozione che avevamo presentato Ma di fatto nessuno ha voluto discuterla La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca Con molto disordine E non vedo questa giunta Attenta E soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi Ci sono sicuramente delle persone Che hanno necessità in questo momento Di essere urgentemente vaccinate Ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità E ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti Riguardo l'utilizzo dei vaccini Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose E delle dosi che dovranno essere per sei persone Sei vaccini E invece sono diventate sette Qui ci sono delle domande importanti da fare Non solo alla giunta Ma anche a tutto il sistema sanitario Che lo sta organizzando Stop alla realizzazione della terza corsia della 11 Nel tratto che va da Firenze a Pistoia La revoca al bando di gara per la costruzione È arrivata dalla stessa società autostradale Il motivo come specificato È da ricercare nello scontro tra governo e società Relativo alla concessione della rete autostradale italiana Mi chiarirò con il presidente Tommasi Che nei prossimi giorni ho subito Appena ho visto questa cosa Ha chiesto di poter incontrare Perché devo dire che ritengo Uno dei passaggi importantissimi Già ben programmato sul piano della progettazione Su cui sono state operate le procedure Per quello che sono gli espropri necessari A realizzare una infrastruttura Che è decisiva nell'area centrale della Toscana Devo dire che non mi sorprende Perché so come Finché non si chiarisce il profilo della concessione delle autostrade La società autostrade non fa investimenti Io spero che con l'arrivo del presidente Draghi Che tutti conosciamo Non solo per le competenze e le capacità Ma anche per il senso operativo e di concretezza Finalmente si possa chiudere questa partita E si possa dar corso a quel piano di investimenti Che la società autostrade aveva previsto di fare Una pessima notizia Si tratta di capire il perché della revoca di questo bando Come lei ha detto il procedimento autorizzatorio è iniziato da tempo Ho avuto modo di seguirlo anche personalmente nella mia precedente esperienza di assessore Avevamo anche ottenuto importanti ricadute per quanto riguarda le opere connesse e funzionali A favore della mobilità e della infrastrutturazione dei territori dove la terza corsia verrà realizzata Con i comuni abbiamo fatto un lavoro di concertazione, di pressing Abbiamo ottenuto importanti risultati Penso all'asse dei vivai nel comune di Pistoia Penso al raddoppio del Ponte Lama per quanto riguarda il comune di Prato Piste ciclabili, sottopassi, sovrappassi Insomma risposte importanti anche come opere connesse Ma la cosa fondamentale è che questa è un'opera assolutamente necessaria e indispensabile Per la Toscana e non solo Quindi io spero che una volta compresi quali sono le motivazioni Possano essere rimosse e credo che il Governo che si insederà dovrà vedere Nell'amministro che sarà competente una forte azione nei confronti di società autostrade Perché l'iter possa riprendere il prima possibile Purtroppo il tempo continua a scorrere inesorabile E società autostrade ha dovuto revocare le prequalifiche della gara d'appalto Perché non più rispondenti ormai ai tempi che corriamo Pensate soltanto che gli appalti comportano ormai per la gestione di tutti gli effetti di contenimento della pandemia Cioè del Covid Un costo ulteriore fra il 5 e il 7% Quindi autostrade ha dovuto revocare quelle prequalifiche che ribandirà Insieme ad anche altre verifiche di natura ambientale molto specifiche Il problema politico esiste ormai da un anno e mezzo E tiene inchiodato questo progetto fondamentale per lo sviluppo dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia E in particolar modo diciamo caro ai cittadini e alle imprese Perché? Perché da un anno e mezzo il governo Conte non è riuscito a sciogliere il nodo Revoca sì, revoca no Della concessione ad autostrade Ma non possono rimetterci i cittadini e le imprese di questa regione in modo particolare dell'Italia Rispetto a un problema che è tutto politico Lo devono risolvere La Toscana deve farsi sentire L'abbiamo detto anche nell'ambito della discussione sul documento di finanza regionale Perché non è vero purtroppo che il progetto esecutivo è ancora approvato Il progetto è pronto, da due anni è sulle scrivanie del Ministero dei Trasporti E deve dare via libera affinché autostrade o chi vorrà il governo Possa realizzare quest'opera fondamentale Grazie a tutti Grazie a tutti